Buonasera a tutti, mi chiamo Ginami Roberto, sono un albergatore di Garda, ci troviamo a Garda, sul lago di Garda e sono qui per parlarvi del prodotto Quantum, un prodotto che ho conosciuto nella primavera del 2013, mi è stato proposto e l'ho installato nel mio hotel, è un prodotto che ha un raggio di azione di 10 metri, un anticalcare, l'abbiamo installato, una volta che l'abbiamo installato abbiamo notato subito quello che ci era stato preventivamente annunciato, per circa 3 mesi in albergo abbiamo notato una polvere bianca, come quando vengono a dipingere i pittori prima della stagione, una polvere bianca che era l'aragonite, che è una polvere con cui viene trasformato il calcare da questo prodotto. In questi 3 mesi circa le tubature dell'hotel si sono purificate dal calcare, abbiamo notato anche nelle docce, specialmente nei telefoni delle docce, che era sparito il calcare, si era trasformato in questa polvere bianca, cioè in aragonite, questa polvere che viene pulita semplicemente dalle donne delle pulizie con un semplice panno umido. La stessa cosa dicasi anche per i box doccia. Le altre cose che abbiamo notato, abbiamo pulito il boiler dell'acqua calda e abbiamo fatto uscire per circa 5 minuti l'acqua dal boiler. Ne è uscita una melma rossastra e la stessa operazione l'abbiamo rifatta a distanza di 12 mesi, quando abbiamo riaperto l'albergo quest'anno nel 2014. In questo caso l'acqua era praticamente pulita, a parte i primi 10 secondi in cui era un po' torbida, e poi è uscita praticamente pulitissima. Un'altra cosa che abbiamo potuto notare è stata dove abbiamo le caldaie, ai piedi della caldaia dove è situato il rubinetto per sfiatare l'acqua calda, si era formato un mucchietto di polvere bianca che sembrava borotalco ed era appunto questo calcare che si era trasformato in aragonite. Un'altra cosa che abbiamo potuto toccare con mano è stata, quando abbiamo chiamato quest'anno a inizio stagione i tecnici della lavastoviglie, perché c'era un piccolo problema, io ho chiesto di controllare le serpentine della lavastoviglie e le serpentine della lavastoviglie erano perfettamente pulite. Infatti mi hanno chiesto che tipo di prodotto usavamo per avere una serpentina così pulita, mi hanno detto di fare i complimenti alla dita che forniva questo prodotto. Io non uso più prodotti per il calcare, prodotti chimici, non uso più l'adolcitore e non uso più neanche le cartucce per pulire le lavastoviglie. Questo ha avuto quindi un risparmio per questo tipo di spesa e abbiamo con questo tipo di acqua diversa da quella che avevamo prima, abbiamo avuto un risparmio del 30% sui prodotti per lavare, diciamo i detersivi e anche il brinantante. Questo prodotto ha avuto anche, nel mio caso, un riscontro dal punto di vista medico, perché io durante il periodo di maggio, quando è stato installato, è il periodo in cui soffro di allergia ai pollini. Nel momento in cui è stato installato ha avuto su di me l'effetto di liberarmi e le vie respiratorie del naso e anche rilassare i miei occhi che erano arrossati. Mi è stato spiegato che l'aria che si crea all'interno di questa bolla è un'aria ionizzata che si respira a circa 2800 metri di altitudine. Io ho notato effettivamente che quando entravo in albergo non starnutivo più e i miei occhi e il mio naso ritornavano con le funzioni normali. Quindi lo stesso prodotto l'ho montato anche a casa, perché a casa avevo problemi a dormire durante la notte con il naso chiuso. Ho risolto anche il problema a casa e quindi adesso dormo tranquillo e sereno. A casa come in albergo ho eliminato tutti i prodotti per l'abbattimento del calcare e quindi anche a casa ho avuto un risparmio a livello di spesa per questi tipi di prodotti. Questo prodotto non si basa sulla magia nera, ma si basa sulla fisica quantistica e quindi stiamo parlando di scienza, non di magia. Quando mi è stato proposto, pur non essendo in grado di capire cos'era la fisica quantistica, l'ho voluto provare perché mi piaceva l'impostazione del prodotto, cioè un prodotto naturale, non un prodotto chimico. I risultati che ho avuto sia a livello di miglioramento della vita, sia a livello anche di pulizia dell'ambiente, sono stati eccezionali. È un prodotto che lo consiglio a tutti e vedrete che lo acquisterete sicuramente.